Massimiliano Federica, lei è arrabbiatissimo per questa iniziativa che si sta facendo negli asili di Trieste? Beh, è una presa di posizione ideologica da parte del Comune targato Partito Democratico con l'avvallo della Regione Serracchiani che vuole nella sostanza andare a colpire in modo violento l'educazione di bambini così piccoli e ricordo che il progetto è indirizzato per le scuole materne, ovvero i bambini da 3 a 6 anni nella quale si vuole uccidere e distruggere la diversità sessuale, l'identità sessuale dei bambini non a caso sono previsti dei giochi nei quali i bambini si devono scambiare i vestiti, bambino con bambina e far vedere che non esiste alcun tipo di differenza riteniamo immorale e inaccettabile che si voglia giocare con la pelle dei bambini per rimporre un'ideologia, l'ideologia del gender che vuole andare ad annientare le differenze invece che valorizzare le differenze tra uomo e donna che sono i cardini della famiglia naturale della nostra società